Rimarrà fruibile fino al 4 giugno, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, la mostra allestita all'interno della Casa del Mutilato. In concomitanza con la Festa della Repubblica, infatti, l'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi di Guerra, guidata dal Presidente Alessandro Gennuso, ha inserito per qualche giorno anche le divise delle Forze Armate, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Polizia e Croce Rossa. Nell'edificio di Viale Regina Margherita è presente nel frattempo un'esposizione permanente, visitabile su prenotazione dei cimeli della Prima e Seconda Guerra Mondiale, che arrivano da privati ma anche da alcune associazioni identi del territorio. Tra le stanze e l'ampia sala del primo piano sono stati esposti elmetti e appesi manifesti degli anni 50, riprodotto un esempio di trincea, e poi ancora allestita una mostra fotografica sul bombardamento e le sue conseguenze in città e lo sbarco in Sicilia del 43. L'operazione Aschi, raccontata anche in un video proiettato proprio vicino alle stanze storiche della Segreteria e Presidenza della Casa del Mutilato, in cui viene anche riprodotto l'annuncio del bollettino della vittoria del generale Armando Diaz, nonché alla stanza dedicata ai caduti della Prima Guerra Mondiale. Tra gli oggetti esposti al suo interno è anche la foto storica del Viale delle Rimembranze, così come veniva chiamata una volta Viale Regina Margherita e le targhette con i nomi dei caduti nisseni.